Ciao, sono Marta Volontè e sono un'artista di 26 anni nata e cresciuta a Milano. Invece di fare l'accademia, come molti dei miei colleghi, ho deciso di laurearmi in filosofia per lavorare soprattutto sul contenuto, su quello che voglio trasmettere tramite il mio percorso artistico. La tecnica che prediligo è la pittura d'olio, soprattutto con la tecnica della spatola, perché mi piace molto l'effetto materico che può offrirmi una pittura d'olio. Il tema principale su cui si sviluppa la mia poetica sono le vedute urbane, di cui ho iniziato un progetto nel 2017 e sto tuttora portando avanti. L'opera che ho scelto di donare per questa bellissima iniziativa di AIL è un lavoro a cui sono particolarmente affezionata, dipinto interamente ad olio e ambientato con una sovrapposizione di luoghi diversi nel centro della città, quindi nel cuore pulsante di Milano dietro il Duomo, nei luoghi vicino a cui sono cresciuta e che ho frequentato soprattutto nel periodo dell'università. Questo ha reso quest'opera perfetta per il tema proposto da AIL di Milano come città dell'accoglienza, in quanto evoca nei miei pensieri l'incontro della diversità, della multietnicità e delle tante sfaccettature che questa città può offrire, soprattutto nella zona centrale del suo cuore pulsante. Sono molto felice di essere stata invitata anche quest'anno a partecipare a Una Mano per AIL, a cui ero già stata invitata con mio grande piacere nel 2019, perché oltre al fatto di partecipare per una buona causa, sono molto felice di questa rivalutazione dell'arte, non solo come mero oggetto estetico o bene di lusso, ma anche come tramite per un gesto di bene sia nei confronti della ricerca scientifica che nello stare accanto alle famiglie dei malati.